Ciao, in questo video parlo del ZELSO, un guida di taglia per le taglie japonesi. Nella cappella possiamo trovare il guida, la scuola per regolazione, il protractor, e la chiusa per lockare il guida. È anche possibile fare un ripcuto con un fenso speciale anche in la cappella. In modo da fare un cross 90 gradi, bisogna impostare il protractor al tango, e impostare il guida. In modo da fare il guida, è molto semplice fare una scuola perfetta. In modo da fare il guida, per fare un cross 90 gradi mitra, la procedura è la stessa. Settiamo un angolo di 45 gradi sul protractor, e poi impostiamo il guida. con questo guida, possiamo impostare ogni angolo, da minus 45 a plus 45, bothi mitra e compound. Questa guida è buona per i iniziati, perché è molto facile mettere linee direttamente e tagliare anche senza l'uso finale di una scuola. in modo.